Atterraggio autorizzato, squadra Pegasi. È una manifestazione per lo sport, Pony. Non per mettersi in mostra. Tutte queste hai un palcoscenico, Sunny. Hitch, accendi le lanterne. Lanterne? No, Hitch. Ricevuto. Lanterne accese. Aspetta, Hitch. E ora? Hai forse detto, è ora? Hitchy, no. È ora? No! L'avete sentita, squadra Unicorni? Ora! 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 Dei nemici a ora tre. Mettetevi tutti a riparo. Allora, si comincia. Atteni! Oh, mi spiace così tanto. Doveva essere una giornata stupenda, invece... Tranquilla, Sunny. Non c'è problema. Magari un problema c'è. Ma tenere a bada una manifestazione del genere non è una passeggiata. Tu come ti senti? Abbastanza bene! Non tu, Thunder. Nemmeno una regina potrebbe riuscire a gestire la competizione da sola. Io sono un alicorno! E riuscirò a cavarmela! I giochi di Equestria possono cominciare! La mia funicura! Smettila! Volare! E contro le regole! Ai vostri posti! Pronti, partendo? La barca non avrebbe dovuto essere già in acqua. Lo saprei. Ho letto tutte le regole. Forse se gli unicorni avessero controllato meglio... Stavamo controllando benissimo in realtà, poi non ci siamo più riusciti. Mi serve subito un taglio e una piega! Oh, la nostra magia! È proprio quella che avrebbe dovuto unirci. Non posso farmi vedere in giro così! Non vi preoccupate, Pony! Sonny ha sempre un piano, giusto, Sonny? È difficile essere un leader, vero? I Pony pensano che noi abbiamo risposte per ogni cosa. Tutti quei Pony diversi insieme hanno finito per competere l'uno contro l'altro. A te e ai tuoi amici non succede lo stesso? Qualche volta è così. Siamo tutti molto diversi. È dura a volte. Ma quando invece lavoriamo insieme e ci ascoltiamo l'un l'altro, tutte le differenze diventano punti di forza. Come in una squadra? Pony! Pony! In queste gare l'importante non è vincere. Il punto dei giochi è celebrare le nostre differenze e collaborare. Che cosa succede? Ma quindi è finito che succede? Non ho capito. D'ora in avanti, ogni squadra sarà un mix di tutte le famiglie Pony. Una rappresentazione della stessa unità che rende così stupenda Equestria. Che i giochi inizino di nuovo! E il vincitore dei primi giochi di Equestria è... Nessuno! Tutte le squadre hanno vinto una gara, quindi è pareggio! Sì! Lo trovo molto sensato. Sono i primi giochi di Equestria. E tutte le squadre hanno vinto. Insieme! Ben fatto, Sunny! Possiamo giocare adesso? Tünno! Tutto! Grazie.